Salve a tutti, allora in questo video parlo di un argomento che è uscito molto nel simulatore del ministero dell'interno ossia la questione, la domanda, vi pongo la domanda però poi vi voglio fornire più risposte perché non è detto che esca esattamente questa domanda ossia al fine di sostenere, questo è il quesito che viene posto, al fine di sostenere gli obiettivi strategici delineati nella conclusione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ET2020, questo vi deve interessare ET2020 che è il quadro di collaborazione strategica a livello europeo virgolettato i criteri di riferimento europei, l'avete trovato veramente in tanti, di cui allegato uno alle stesse conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 prevedono tra l'altro che, e poi ci sono le varie risposte A, B, C, D e adesso vi dirò tutto quello che prevede così in questa maniera riesco a darvi tutte le risposte che possono uscire relativamente a questo argomento qui perché è possibile, adesso la domanda era relativa a solo una, relativamente a livello di istruzione in percentuale in funzione dell'età io vi dico quali sono gli obiettivi e poi vi dico anche quali sono i parametri in questo caso la domanda e la risposta che voi avreste dovuto spuntare era riferita ad un parametro però vi voglio anche inserire gli obiettivi così avete anche più materiale allora, quindi gli obiettivi del quadro strategico ET2020 che persegue gli obiettivi comuni dell'Unione Europea sono quindi fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità diventano o divengano una realtà quindi 1. Apprendimento permanente e mobilità gli sottolino quelle che a mio avviso sono le questioni più probabili che vengono richieste migliorare la qualità e l'efficacia ricordatevi queste due paroline promuovere l'equità è fondamentale fondamentale poi se volete in altri video ve ne parlo quindi promuovere equità coesione sociale e cittadinanza attiva abbiamo visto che queste sono anche le otto competenze chiave europee però adesso ci focalizziamo sugli obiettivi ET2020 equità coesione scolastica eccittadinanza attiva attenzione sappiate la differenza tra equità ed uguaglianza equità significa che date di più a chi ha bisogno di più in maniera tale da permettere a tutti di raggiungere lo stesso obiettivo ci sono delle bellissime immagini che vorrei farvi vedere però per verità adesso non non ve le metto nel video e ovviamente bisogna tra gli obiettivi incoraggiare la credita e la creatività l'innovazione compreso lo spirito imprenditoriale questo spirito imprenditoriale anche lo troviamo nei diversi video che vi ho fatto è un sono due parole ricorrenti ovviamente prosegue a tutti i livelli di distruzione della formazione però ricordatevi questo spirito imprenditoriale quali sono i parametri che si è posto che si sono posti almeno il 95 per cento dei bambini deve frequentare la scuola materna quindi 95 per cento bambini scuola materna ricordatevi queste se vi ricordate questo praticamente riuscite a rispondere a tutte le domande riferite alle t 20 20 meno del 15 per cento dei 15 anni dovrebbe avere risultati insufficienti lettura matematica e scienze quindi minore di 15 per cento e parla dei 15 anni scriviamo così quindi voto maggiore uguale a 6 almeno la sufficienza in lettura matematica e scienze lettura matematica e scienze benissimo andiamo avanti meno del 10 per cento dei giovani tra i 18 e 24 anni quindi in meno 10 per cento gli anni sono compresi tra i 18 e 24 anni quindi tra anni 18 e 24 devono o dovrebbero abbandonare il studio la formazione meno del 10 per cento abbandono abbandono studi e formazione ovviamente qua vorrei anche mette dei punti in virgola non l'ho fatto prima è solo per brevità altre domande almeno il 40 per cento dei 30 34 anni deve aver completato un percorso di istruzione superiore quindi almeno significa più del 40 per cento quindi deve essere maggiore del 40 per cento che cosa le persone che hanno degli anni compresi tra i 18 e 34 scusate maggiore del 40 per cento tra i 30 e 34 completamento percorso di istruzione abbiamo quasi finito così ve l'ho messi tutti poi almeno il 15 per cento maggiore 15 per cento poi prendetevi gli appunti così ve lo ricordate degli adulti devono partecipare all'apprendimento permanente ne mancano due almeno il 20 per cento dei laureati quindi deve essere maggiore del 20 per cento e il 6 per cento dei 18 34 anni quindi lavoriati o 18 anni 34 quindi le persone tra 18 34 anni con una qualifica professionale devono aver trascorso una parte degli studi o della formazione all'estero studi o formazione in terra straniera quindi all'estero e veniamo all'ultimo punto così saprete rispondere a tutti i quesiti almeno l'82 per cento quindi maggiore uguale dell'82 per cento e 20 34 anni quindi con anni compresi tra i 20 e 34 con almeno un diploma di maturità quindi almeno la maturità o superiore deve aver trovato lavoro entro 1-3 anni dalla fine degli studi deve lavorare entro 1 fino a 3 anni dalla fine degli studi io con questo vi mando un caloroso abbraccio vi auguro una buona continuazione di giornata e a presto un caro saluto da Francesco Samani